Partiti o movimenti che vincono, coalizioni che potrebbero dettare la linea del post-voto ma nessuna maggioranza pronta a governare e a prendere in mano le redini del Paese. E' questo il quadro che emerge dagli ultimi sondaggi prima dello stop sulle stime di voto nelle ultime due settimane di campagna elettorale per le politiche del prossimo 4 marzo. A livello nazionale, stando alle rilevazioni Demos per Repubblica, il Movimento 5 Stelle stacca nettamente tutte le altre forze politiche proiettandosi al 27,8%. Non si avvertono dunque, almeno in questo momento, gli effetti del caso Rimborsopoli anche se senza alleanze sarà impossibile governare per i pentastellati. Continua a perdere consensi invece il PD di Matteo Renzi che scende sotto la soglia del 22% fermandosi in questo momento al 21,9%. Continua ad avanzare Forza Italia, attualmente al 16,3% con 3,1 punti di vantaggio sulla Lega di Salvini mentre Fratelli d'Italia staziona il 4,8%. La somma totale delle forze di centrodestra dà come risultato orientativo il 35%, a 5 punti di distacco dalla soglia del 40% che garantirebbe governabilità. 6,1 invece per Liberi e Uguali, dal generale al particolare, ovvero i dati che riguardano la nostra regione. Stando al sondaggio Cakes per la Sicilia, il Movimento 5 Stelle fa la parte del Leone attestandosi al 30,3%. rischia di andare incontro a una debacle il PD al di sotto dei 20 punti percentuali col 19,3%. Ottimo invece il dato di Forza Italia, gli azzurri raggiungono il 23,4%, potendo contare come seconda forza di coalizione sul 7,1% di Fratelli d'Italia. L'apertura all'intero stivale della Lega di Salvini non sembra far breccia tra i siciliani, al carroccio viene attribuito solo il 2,2% dei consensi. Bene invece la cosiddetta quarta gamba del centrodestra, trainata nell'isola dall'Udc, che totalizza il 6,1%, mentre Liberi e Uguali si ferma al 5,1%. Nessuna maggioranza anche nell'isola, dove il Besame, ovvero la coalizione che vede come principali attori, Berlusconi, Salvini e Meloni, si ferma al 38,8%. Al netto di clamorose novità nelle ultime due settimane, dunque il postelezioni sembra già scritto, o si trovano convergenze in Parlamento o si torna a votare. Grazie a tutti.